ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di minecraft questo qui è lo speciale 20 iscritti vi volevo ringraziare e perché sono in un nuovo mondo in sopravvivenza volevo avvisare che la serie minecraft nella vita real continua era sicuro e volevo anche salutare una mia compagna classe che mi ha chiesto rachele e allora ragazzi questa qua la mia skin vera voi non l'avete mai vista quella che c'è anche nel logo del canale allora stai in questo nuovo mondo perché in tantissime mi hanno chiesto di iniziare una vera vanilla su minecraft in sopravvivenza e sono molto felice di iniziare questo nuovo mondo in sopravvivenza con voi in questo periodo usciranno due serie minecraft nella vita reale che ormai è la serie più bella del mio canale questa qua lo diventerà e ragazzi sono sposato a scuola colline guardate qua cosa c'è c'è subito un magnifico villaggio in questo episodio ci insegniamo a prendere le prove per vivere il cibo gli utensili e dopo nei prossimi episodi andiamo avanti a fare altre cose ok vediamo già del grano ok te cosa vendi niente ok allora andiamo di qui niente interessante niente interessante niente interessante niente allora niente niente qui c'è qualcosa interessante ok inizia a esserci qualcosa allora iniziamo come fanno tutti prendiamo ancora un po di legno iniziamo facci la crafting table ok so che non si deve mai scavare sotto i piedi ma tanto non si può trovare la lava a livelli così bassa in realtà si può ma deve essere proprio sfortunato ok ora prendiamo questo ok prendiamo questo ok abbiamo già un po di cibo ora cerciamo il piccone iniziamo prendere la prima pietra questa qua sarà una serie molto lunga la che sarà la mia vanilla con voi in sopravvivenza allora intanto che scavo volevo dire che nella sema in canarità avevo detto in uno scorso video che avremmo esplorato il villaggio se sarei arrivati a 7 like siamo arrivati a 8 quindi lo esploreremo di sicuro vi avviso ok in un prossimo video ok siamo già pronti possiamo prendere un po di libri che ci serviamo per incantarci molto bene buongiorno allora andiamo da questo golem stupido e ci prendiamo un po di ferro scrivetevi nei commenti se anche voi saprate sto trucco ok abbiamo già due di ferro no quattro grande golem molto bene ci possiamo già iniziare a fare il piccone in ferro molto 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 bene e ci facciamo una parola ok ora con ora prendiamo ancora un po di cibo allora ragazzi in questo cibo e va bene scusate allora volevo dire una cosa molto bella che se è nato in una savaconi c'è anche un villaggio ed è un bioma molto bello pianura si possono costruire tante cose dopo va molto esplorabile con già un villaggio è molto bello si è asplorato in un posto molto bello ti ripianto io le cose non prendere tempo a dare scusa forse un po di cibo non ti devi arrabbiare guarda se vuoi ti commercio anche e le stavate le metto tutte qua ok grazie ok cosa commerci un bello smeraldo che ci compriamo il pane grazie ok io inizierei a fare una roba a prendere i materiali perché nel prossimo episodio ci faremo la casa questa serie uscirà un po meno del che la mia maniera uscirà un pochetto meno di minecraft nella vita reali perché perché c'è un po di più di roba a fare non c'è tempo di fare tutte e due dato che sta proprio sta andando di più minecraft nella vita reali di seca c'è di più e inizia a portare un po' più quello ok vuole ancora grano e io non scelò non scelò allora questa serie è andata con calma cioè non è che voglio fare una speedrunner io cioè capito ok mooc possiamo già iniziare a fare qualcosa molto utile ci ne è una qua però si ok 4 di cuore e 4 di carne perfetto fermati 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 non vedi niente ho visto ora andiamo a guardare una roba allora qui chi sa te uno che vede la roba stava aprendo perché mi piace un sacco ma mi piacciono molti i vari ho visto un villager che dava una roba interessante ecco ti ok dimmi il cantato dimmi che c'è qualcosa di interessante oh ragazzi camminatori di ghiacci no 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 faccio una roba con te levati no vieni c'è il tuo legge lo devo prendere perché quando avrò tanti ok vai nella tua stanza vai nella tua stanza vai nella tua stanza vai nella tua casa ok non fai usare le maniere forti allora uso le maniere forti ok no ah mi hanno tolto è sparito il lavoro io sono tuo e bravo quindi faccio no 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 ti 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 Sei tu? Dimmi che sei tu Ok sei tu No Hai cambiato con marce No no Vabbè Ok a te però stai qui Dopo il nostro amico Ti farei una casa molto più bella Allora ragazzi Per questo episodio direi che è tutto Arriviamo a 10 like E ci vediamo domani O un prossimo giorno Con un altro video Ciao